Musica Uh ragazzi, buon modo dei bentornati Incredibile su una reaction Inaspettata E godosa Perché sono eccitato all'idea di vedere questo teaser Incredibile sul capitolo 4 di Poppy Playtime Pazzesco e assurdo, semplice ragazzi C'è stata una coincidenza sus Perché come avrete visto il video di Poppy Playtime Il 4 chiacchiere di Il godo di Poppy Playtime Che ne approfitto ragazzi per ringraziare per il supporto al video E allo shorts ragazzi che il godo c'è con voi Incredibile E' uscito appunto il 30 settembre Incredibile, piccola chicca per gli appassionati Quel video doveva uscire la settimana scorsa Ma per problemi nel mio programma di editing Non è potuto uscire prima Quindi ragazzi sono stato costretto a farlo uscire Il 30 incredibile E' successo che il pomeriggio del 30 Magicamente ragazzi La Mob Entertainment aggiorna sia la pagina Steam Che non mi sono visto incredibile L'ho solo visto aggiornata e sono scappato Sia sul canale YouTube Hanno postato il primo teaser incredibile Del capitolo 4 di Poppy Playtime Pazzesco e assurdo ragazzi Se fosse uscito poco a poco prima L'avrei aggiunto nel video incredibile ragazzi Che dovete fare? Io quel video l'ho registrato quasi 10 giorni fa ragazzi Quindi non c'era speranza incredibile Ovviamente ragazzi io ieri pomeriggio non ero in questo ufficio incredibile Quindi non mi sono sparato niente Sono sparito a tutto quanto Ho preparato tutto ragazzi Adesso me lo sparo Perché sono veramente curioso di vedere Dove voglio andare a parare con questo capitolo 4 ragazzi Incredibile Se tutto va bene ragazzi Il mio programma di editing Non mi dà dei problemi incredibili Voi dovreste vedere questo video Fresco fresco Mercoledì 2 ottobre Pazzesco e assurdo Tra l'altro ne approfitto Sempre per farvi capire Quanto mi stia innervosendo Nei confronti del mio programma di editing Da 10 giorni a questa parte Mercoledì 1 doveva uscire il finale di Palward Non uscirà nessun video a Mercoledì 1 Perché purtroppo il mio programma di editing Ha detto Ehi bello questo video appena editato Perché non lo cancelliamo Così lo devi rieditare da capo eh E mi ha cancellato il video ragazzi Meno male che ho la copia del video però Non editato Quindi mi devo rieditare tutto a più Finale di Palward E probabilmente come il finale di Palward Lo vedrete giovedì o venerdì Devo vedere Perché c'è anche il video di Indigo Park E di Bendy Quindi non lo so Comunque sicuramente vedrete questa settimana Il video finale tra virgolette Di Palward Incredibile E questo video mercoledì Detto questo ragazzi Direi di buttarci in questo primo teaser Del capitolo 4 E poi vedremo anche la pagina di Steam Aggiornata ragazzi Allora spero che l'audio si senta bene Incredibile Mettiamo grafica al massimo Volume al massimo Ragazzi 3, 2, 1 Proprio per età è un capitolo 4 Fammi godere Vai Ah Fai mettere comodo Ok Un Dog Day Ok Giocattoli morti Siamo in un posto sus Forse la teoria delle prigioni Era vera Perché vi ricordate C'era solo la teoria delle prigioni E del Parco di divertimenti Sus ragazzi Poi non so se ripeto Ce ne sono state altre dopo Ok sta mangiando Si sta muovendo Qualcuno Ok E un altro Smiling Critters Non so Sembrava un coniglio Ma un attimo No non può essere Hoppy Hoppy il coniglietto verde Capitolo 4 Gennaio ragazzi Gode Confermata gennaio E ora lo rivediamo ragazzi Minimo 4 o 5 volte Calmi Poi rivederlo Poi commentiamo bene Perché loro di solito Al primo teaser Lo fanno capire proprio le briciole Poi uscirà un altro teaser Secondo me Poi il trailer vero Poi il trailer con la data Quindi ragazzi a voglia Ne uscirà uno al mese Vedrete Come hanno fatto col capitolo 3 e 2 Pure con Babylon Klax Si È un Dog Day Che mangia Ci saranno dei messaggi Subliminali qua E poi quest'affare Non è un coniglio È una pecora È una pecora Sì è una pecora Io avevo visto il dentone Quindi pensavo fosse un coniglio Un roditore Invece no Mi sa che è una pecora Il meme della Black Ship Che girava Quando giocavo io A Project Playtime Mi hanno fatto diventare Una mascotte Seri Il meme della Black Ship Che ho detto un attimo fa Me l'ero letto Quando ho appunto registrato Il video di Poppy Playtime Delle 4 viacchere di God Non avete presente Che in quel video C'è la parte di sus e scheletro No? Che fanno le battutine Sul fatto che il fandom Di Poppy Playtime Sia abbastanza sus Con fetiche strani E cose incredibili E Uno dei fetiche Che girava Che credo sia partito Da un canale YouTube Ma non sono sicuro il nome C'era questo meme Di questo Smiling Critters Che però di fatto Non era canon Che era una pecora Una capretta Insomma cose del genere Che era collegata A questo canale YouTube Ragazzi Vi farò dire C'è uno Smiling Critters Adesso Che è una pecora nera Quindi non so Se hanno preso Quell'idea del Sai no Fandom È come se a un certo punto Facessero un teaser Do mettono una Mami Longlegs Con i capelli biondi E la chiamano Oh guarda la cugina Di Mami Longlegs Sarebbe una citazione assurda A tutte quelle fanfiction Che ci sono su Mami Longlegs Che vi ho citato Nel video di 4 chiacchiere di quoto Comunque ragazzi Con calma Per me la bomba Di questo teaser Non è questa pecorella Ma è il fatto Della data a gennaio Perché avevo paura Fosse tipo marzo Per quanto riguarda Questo teaser Ripeto Loro tendono a farti vedere Proprio le mollichine E poi ti fanno della bomba Come fanno sempre In tutti i capitoli Quindi qui ci sono Dei messaggi subliminali Secondo me molto importanti Che non so Se riuscirò a capire tutti Ragazzi Però adesso lo analizzeremo Le due teorie Che c'erano Soprattutto quando io Avevo appena finito Poppy Playtime Capitolo 3 E avevo iniziato Project Playtime Erano appunto Che il capitolo 4 Poteva andare in due direzioni O le prigioni E l'altra Era ovviamente Il parco di divertimenti Sussa all'esterno Che si vede Proprio il manifesto Nel capitolo 3 Con Poppy Incredibile Siamo nelle prigioni Ok Seconda cosa Scopriremo che ha attaccato Kissi Missi E io 99 su 100 Vi direi Come vi ho detto Anche nel video O Boxi Boo Poi avevo detto Che nel video Che poteva essere Non è morto Perché altrimenti L'avrebbero fatto vedere Morto Di fatto la porta si chiude Tu senti un ur Ma Dog Day Potrebbe essere vivo Poi ovviamente C'è l'incognita Prototype Credo sarà Il main villain Ma lo elimineremo Nel capitolo 6 Secondo Quindi si farà vedere Ma sus E poi l'altra teoria Che non ho detto nel video Perché non ero sicuro Io vi ricordo Quell'orribile bruco Del capitolo 2 PJ Pagar Pillar È ancora vivo Non è morto È l'unico giocattolo Che sopravviene Nel capitolo 2 Quindi magari quel coso È ancora vivo E io ho il terrore Perché quella creatura È monstruosa Mamma mia Poi ovviamente Abbiamo sempre Il mistero di Poppy Di chi siamo noi Eccetera 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 Sawyer Che secondo me Potrebbe essere Un personaggio sus Legato a BoxeBoo Proprio nel capitolo 4 Quindi tutto questo ha senso Però ovviamente Mi aspettavo personaggi nuovi Incredibili Allora prima cosa È uno Smiling Critters Che va in una stanza sus Ci sono delle scatole Ci sono catapri Di Smiling Critters Il posto sembra veramente sus Che poi mi ricordo Che gli unici leak Che io avevo letto Erano che I nemici del capitolo 4 Erano molti Cioè erano un tipo Un duo Un trio addirittura E si girava molto Sul fatto del clown No? Quindi non dico Mi aspettassi Una suona da clown O qualcosa del genere Però questa cosa Dello Smiling Critters Pegorella Mi ha completamente Deviato Verso un'altra parte Ragazzi Sinceramente Sono abbastanza speechless Quindi sono curioso E preoccupato allo stesso tempo Questo è un messaggio subliminare Che qui Dog Day È ancora vivo Incredibile Andiamo avanti Sicuramente è molto cubo Cioè è molto 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 dark Questo ve lo posso dire sicuramente Qua ci sono dei cadaveri Di Smiling Critters Il Baba Elefante Il Coniglio Chicken Chicken Piggy Piggy Un altro Dog Day E qui un Cut Nap E qui un Bobby Bear Hug Quindi sono proprio tutti morti Vabbè sì Effettivamente ci sta Che questo Dog Day Giri C'ha fame L'avevamo capito Nel capitolo 3 Che questi mangiano Quindi si mangiano pure Tra l'oro Quindi ha senso Questa cosa Questo Dog Day Che ha mille e mezzo Ai cadaveri Di Smiling Critter Oh Quello è Sush A parte che per un attimo Sembrava un sacco Della monnezza Sto coso Quindi non avevo proprio pensato Potesse essere Un animaletto Si guarda attorno E poi si mette a mangiare Quello che sembra Il cadavere di un orsetto Quindi di Bobby Bear Hug E comincia a mangiare Tanto mi fa ridere Che mangia Che non ha i denti Oppure ha i denti Non credo abbia i denti però Poi qui si muove All'improvviso E attacca Attacca E lo ammazza Ah no C'è veramente un sacco Della monnezza Ah ok Quindi l'avevo visto bene Si era mimetizzato bene E questo affare attacca Dog Day e lo uccide Allora Qui ci potrebbero essere Dei messaggi subliminali Ripeto Assurdi L'unico che mi viene in mente È che vogliono farti capire Che c'è la meccanica Dell'aggressività Cioè l'idea Che qui sotto Le creature siano molto più aggressive E quindi mi viene in mente Che ci deve essere Boxy Boo Anche il fatto Che lui è nascosto E poi attacca È un po' come Boxy Boo Che è una scatola Che esce e attacca Sto deviando Sulla pecorella ragazzi Perché da una parte Mi ripeto Mi incuriosisce Ma dall'altra mi preoccupa Cioè se fosse stato Un alligatore Una giraffa O un qualsiasi animale diverso Sarei stato più intrigato Che preoccupato Però la pecorella Cioè E che io ho in mente Ripeto Quell'icche teoria Della pecorella nera Nella community Capito Cioè mi sembra assurdo Che loro veramente Abbiano fatto uno Smiling Critters Per via di quel canale YouTube Che parla della Lord Di Proprietà Ma allora l'hanno citato Perché il suo simbolo Era la pecorella nera E hanno fatto uno Smiling Critters A pecorella Perché lui aveva fatto Questa fanart Della pecorella Cioè Mi blocca un po' Perché non vorrei Che andassero per la strada Del Fanno fanart Perché il pubblico Vuole quello Allora Di mostri Devono essere quello Capito Mi dà l'idea Di una forzatura Però ripeto Magari Sono io Ok amici Ditemi la vostra Però Mi sento forzato Nei confronti di questo Smiling Critters E poi parliamoci chiaro Perché esiste questa creatura Nel senso Noi sapevamo Che i Smiling Critters Erano quelli E che cattano Appena quello problematico Ok Ora se ne escono Con la pecorella nera Quindi la pecorella nera Era un prototipo Di Smiling Critters Oppure Un'altra catena Un altro gruppo Di Smiling Critters Che non abbiamo mai sentito nominare Che poi Non hanno mai venduto Forse Tipo Rejected Toy Ma versione Smiling Critters Potrebbe essere Gli hanno chiusi qui Perché forse sono aggressivi Sono pericolosi Ah ecco Questa potrebbe essere carina Che loro Magari ci sono Dei Smiling Critters E tra cui la pecorella Che erano però Aggressivi Quindi li hanno buttati Di sotto E ne hanno fatti Altri sette diversi Sicuramente è molto aggressiva Il fatto che uccida Dog Day Potrebbe essere un segno Che forse Dog Day Tornerà E poi morirà Sus Qui è molto creepy Che alza lo sguardo Come a guardarci Questo mi piace molto Qui attorno ci sono Cadavri Ci sono dei container Tipo E qui c'è una specie di simbolo Forse sto viaggiando Con la fantasia Ma questi quadratini Mi ricordano Voxy Boo Ti immagini E holli Questa pecorella No scherzo È una cavolata assurda Sarebbe divertente Ripeto È molto bello Questo teaser Però è il fatto Dello Smiling Critters A pecorella Che mi ha un attimo Deviato verso una forzatura Ragazzi Ripeto Voglio essere ottimista Che magari questa pecorella È un villain assurdo Magari super aggressivo Ti immagini Questa pecorella Ha il potere di diventare gigante Sarebbe fichissimo Oppure c'è un'altra cosa Questo Smiling Critter Potrebbe essere stato creato Dal Prototype Che quindi il Prototype Crea giocattoli Che assomigliano A quelli che abbiamo affrontato Ma modificati Visto la delusione di Cuttrap Ha detto Crea un esercito di pecorelle Molto interessante E poi ti dice Capitolo 4 E questo è il simbolo del 4 E dice gennaio Ragazzi Veramente spicy Allora andiamo un attimo Sulla pagina Steam Che voglio vedere Che hanno aggiunto Ragazzi Siamo sulla pagina Steam E hanno proprio messo Capitolo 4 Eccolo qua Chapter 4 Allora voglio vedere le foto Ah Attenzione Spero ragazzi vedete Sicuramente sembra una prigione Cioè sembra una reception Di una prigione Non so se capite ragazzi Vedete ci stanno pure le sbarre qui Battono sempre su questo quadrato Lo stesso quadrato Che si vede nel teaser Ripeto Qui secondo me È una boxy-bo reference Palese Pure per terra Però ci sono gli stessi colori Rosso Giallo e azzurro Che sono tra l'altro I colori della Playtime Qua ci sono delle telecamere SUS Quindi forse il prototype Ci guarda da lì C'è il cielo finto Non lo so SUS però sì Sicuramente prigione Mi dà l'idea Qui c'è una porta Non so se la vedete Qui c'è una specie di ventola E qui c'è tipo Tutta immondizia E mi ricorda Sai che cosa questa scena Avete presente? L'inizio del capitolo 3 Quando Cuttrap ci butta Dove ci stanno I rifiuti che vengono compattati Mi ricorda una cosa del genere Ecco Questa mi intriga da morire Questo è un setting Completamente nuovo Sembrano delle fogne Mi ricordano le paperelle Di The Deception Qui c'è una specie di generatore Questo è molto molto creepy Sarebbe carino Che dobbiamo tipo Accendere i generatori Per aprire porte SUS Qui fuori mi sembra Sempre la parte Delle grotte SUS No perché L'ambientazione è spicy Ripeto Sembra ancora più dark Del capitolo 3 Queste Per un attimo Sembrano delle cassaforti Però no Sono prigioni Prigioni SUS Ovviamente queste sono aperte Quindi duco Siano usciti Delle creature mostruose Da qui Sarebbe figo Se questo fosse tipo Dove tenevano i giocattoli Più pericolosi Tra cui Boxiboo Secondo me Vedrete voi Non credo Vedremo il Prototype Forse il Prototype Farà Q qua La fine del capitolo 4 Però sicuramente Sapremo di più Vorrei sapere anche di più Sul Dottor Sawyer Ok Questa SUS Allora Siamo sempre nella zona Degli abissi infernali E torno alla manina viola Quindi sono contento Spero aggiungano manine nuove Ragazzi Non capisco che sono Questi due cosini qua sotto Cosa sono occhi O sono io che sto viaggiando Con la fantasia Li vedete ragazzi È una luce O sono due occhietti SUS Di qualcosa che ci sta guardando sotto Ti immaginate Hanno aggiunto la meccanica Che puoi fare i salti Ma ci sono magari tipo Dei nemici che ti attaccano Sarebbe figo Ecco sicuramente Questa cosa la voglio dire Io spero Che il capitolo 4 Sia più aggressive E questo teaser Mi sembra proprio di sì ragazzi Vi ricordate quante volte Io ho detto Nel capitolo 3 Che quando vai Ad esempio in giro In Playcare Cutnap si faccia vedere poco Io avrei voluto Che Cutnap fosse stato Sempre presente A Playcare Anche quando vai a collegare i fili Per dare elettricità Alla macchina E tutte queste cose SUS Ragazzi Avrei voluto Cutnap sempre presente Che tu devi guardarti attorno Perché può aggredirti In continuazione Ragazzi Io vorrei che quella Aggressività Sia in tutto il capitolo 4 Ragazzi Cioè quello secondo me è stata Una delle più grandi delusioni Nel capitolo 3 Il fatto che Molte zone fossero troppo chill La parte con gli smiling critters Era figa Perché loro ti attaccavano Poi c'è Miss Delight E sapete cosa penso di Miss Delight Capito Più aggressività Forse questa o questa pecorella Potrebbe darci del filo da torcere Quindi questo molto SUS E poi ultima foto Ah ok È un primo piano della pecorella Vi ripeto ragazzi Sembrava un roditore Per un attimo Perché c'ha il dentone È una pecorella C'ha il teschietto Che non promette bene Proprio in capitolo 4 Però una cosa è SUS È strano Che sia l'immagine del capitolo 4 Primo capitolo c'è Aghiwagi E Aghiwagi è Aghiwagi Secondo capitolo Mammy Longlegs Terzo capitolo Cuttrap Quarto capitolo la pecorella Io ci metterei Boxy Boo Come main del capitolo 4 Non la pecorella A meno che questa pecorella Ripeto si scopre che è Olly Non so perché oggi Sono fissato a dire questa cosa di Olly Oppure Ripeto Ha un lato oscuro ancora più cattivo Però Io che sono fan di Boxy Boo Per quanto a Project Playtime Non sia mai stato bravo a usarla Spero che Boxy Boo Diventi l'immagine del capitolo 4 E non questa pecorella Ok Voglio vedere se ci sta qualche altra cosa Sus C'è pure la descrizione ragazzi Non so se la leggete Allora Brace yourself for the darkest chapter yet In the Epic Pop Everytime Saga Ok quindi Brace yourself Fatti coraggio E arriva in questo capitolo Considerato il più oscuro Darkest Quindi il più cupo Il più oscuro Di tutti i capitoli di Pop Everytime Infatti Fino ad ora Quindi questo promette bene Sei spinto Verso la parte più oscura E profonda della Playtime Infatti noi stiamo calando di sotto Molto più in basso Di qualsiasi cosa Il mondo potesse conoscere Qui incontrerai Nuovi pericoli Terrificanti E scoprirai Rivelazioni scioccanti Sto aspettando queste cose ragazzi Puoi sopravvivere a queste Innaturali Creazioni Che si muovono Nell'oscurità Ok ha senso Con il teaser Della pecorella Puoi sopravvivere A lungo E eventualmente Scoprire i nuovi misteri Dietro a questi nuovi esperimenti Ogni passo Sarà un test di coraggio Promette molto bene Ogni puzzle Oh my god Will challenge your mind Quindi ogni puzzle Sarà un test Per la tua mente Ragazzi Questa frase Mi preoccupa assai E con ogni corner Potrebbe essere il tuo ultimo Quindi ogni angolo Potrebbe essere il tuo ultimo Ripeto ragazzi Mi sembra molto aggressive Feature Quindi caratteristiche Nuovi personaggi E alleati Forse intende Poppy Holly Ci saranno sei personaggi Che ti daranno una mano Sei personaggi che ti Insomma Ti daranno la caccia in continuazione Expanded lore Quindi lore aumentata Scopri molti più segreti Oscuri della Playtime Co E il suo passato Twisted Quindi il suo passato Sus Ci sono nuovi Mindbending Puzzle Risolvi Intricati puzzle Che possono Addirittura Che possono Fare d'equilibrio Tra la vita e la morte Ragazzi Addirittura Mi ricorda Project Playtime Questa cosa Atmosfera Cupa Riuscirai a uscire dagli orrori Tra la Playtime Co O soccomberai al terrore Sopravvivere Non è garantito La paura Sì Questa roba È importante Mi dicono Pesa 60 giga Ok pure il capitolo 3 Pesa 60 giga Ok quindi più o meno La grandezza Sembra uguale Al capitolo 3 Ragazzi Sono curioso Allora il teaser In sé è molto bello Sono contento della data L'ambientazione Sembra molto sus Sembra molto più oscura E dark E molto più aggressivo L'unico point down Se volete Da me Proprio la pecorella Mi sono forzato A questa cosa Della fan fiction Della pecorella Di quel canale youtube Della fan art Tutta quella storia Alla ragazzi Se avessero fatto Lo stesso trailer Ma con Un qualsiasi Creatura nuova Anche un teaser Di boxy boo Mi sarebbe piaciuto di più La pecorella Smiling Critters Ni Cioè Mi piace Allo stesso tempo La trovo una forzatura Volevo creature nuove ragazzi Capito Quindi da me l'idea di riaffrontare Gli Smiling Critters Sì Ma l'idea che la pecorella Abbia un ruolo così Alto Da addirittura essere Mol immagine del capitolo 4 Mi preoccupo un po' Cioè Io preferirei Gli Smiling Critters Nuovi Ma in secondo piano Di altri nemici Non che siano di nuovo On the top of the mountain Capito Gli Smiling Critters Tutto qua Però ripeto È il primo teaser Sono assolutamente ottimista ragazzi Fatemi sapere la vostra Io direi che da questa reazione Un po' finire qua Noi ci vediamo Nella prossima reazione Di poppy tank Che probabilmente uscirà Secondo me Fino a ottobre Ne faranno una al mese Fino a quando non uscirà Il trailer Bello Ignorante Che uscirà probabilmente Fine dicembre Massimo I primi di gennaio Incredibile Ragazzi Che cosa sono voi E ci vediamo al prossimo episodio Delle reazione Pazzesca assurde Wow Pazzesca assurde